Tassa di soggiorno per la città di Templi a partire dal 2018 si tratta di un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte. A darne la notizia il primo cittadino di Capaccio Pessum Franco Palumbo. L'istituzione di una tassa di soggiorno era stata già proposta nel 2011 quando fu portata al vaglio dell'allora consiglio comunale della passata amministrazione del sindaco Pasquale Marino. Con questa novità ai turisti che soggiorneranno nel territorio verrà richiesto un piccolo contributo per mezzo del quale verranno finanziati interventi in materia di turismo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sostegno delle strutture ricettive e dei servizi pubblici locali. Tra l'altro questa tassa potrebbe andare anche ad arricchire le casse comunali, data l'alta presenza di turisti, in particolare nella stagione estiva. Anche nella città di Agropoli si sta valutando la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno da destinare a tutti coloro che decideranno di soggiornare nella cittadina agropolese. Se un'idea del genere dovesse andare a porto, il Comune darebbe seguito ad una direttiva che è propria dello Stato.